Terra Mara, anticipazioni della puntata dell'11 gennaio. Ma prima di svelarvi le anticipazioni della puntata di oggi di Terra Mara, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per scoprire in anteprima le rivelazioni delle soppe più amate del momento. Il Maz ama ancora Zuleya? Ieri la puntata di Terra Mara ci ha lasciati decisamente col fiato sospeso. Zuleya si salverà dopo il suo folle gesto? Vediamolo insieme. Ghaffur, su ordine di Unkar, ha prelevato dalla clinica un medico affinché intervenisse immediatamente per salvare la vita a Zuleya. Ma per fortuna le sue condizioni non sono così disperate. Infatti il medico dirà a Unkar che Zuleya si riprenderà presto, ma che comunque deve essere curata per evitare che compia nuovamente dei gesti inappropriati. Quindi Zuleya, ancora in stato di incoscienza, viene caricata su una macchina. Ma prima di sfrecciare verso l'ospedale, Unkar chiede a Ghaffur e a Sanye di non proferire parola sull'accaduto. Né Demir e né tantomeno i domestici della tenuta devono sapere la verità, ma qualcuno si è già accorto che qualcosa non torna. Infatti, mentre Sanye stava andando a buttare le coperte intrise di sangue, viene intravista da Seher e Fadik, che decidono di seguirla di nascosto e scopriranno, dentro al cassonetto, proprio le coperte sporche di sangue. Ma cosa starà accadendo a casa di Ilmaz dopo che la sua futura sposa l'ha abbandonato? Ilmaz salta sulla macchina, ancora convalescente, deciso a raggiungere la dottoressa. Fecheli viene avvisato e preoccupato per Ilmaz lo raggiunge. Quando riesce a raggiungerlo, cerca di convincerlo a ritornare a casa, ma questo si rifiuta. Fecheli allora decide di accompagnarlo e cercherà anche di farlo ragionare. Gli dirà, infatti, di chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti verso Mushgan. Il lancia anche, diciamo, una provocazione. Se Zuleya tornasse da lui, come reagirebbe? Ilmazzo gli risponde che Zuleya ha scelto Demir e che già più volte ha ribadito di amarlo e che ora lui non prova più nulla per lei, neanche se dovesse ritornare da lui. Ma abbiamo ancora una questione in sospeso. Demir. Infatti, Demir, ieri abbiamo visto che è stato portato al commissariato. Lo Yaman viene accusato ufficialmente della sparatoria e del riferimento di Ilmaz e che stanno attendendo Fecheli e Ilmaz per la testimonianza. Ma i due uomini si trovano ad Ankara. Demir spazientito, quindi chiede di poter tornare immediatamente a casa, ma interverrà il procuratore che rivelerà a Demir che il mittente della lettera accusatoria non è Ilmaz e che dovrà attendere gli arresti. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video. A domani!